E' a due passi dal fiume Po, a dieci minuti da un luogo incantato con questo bellissimo laghetto, lungo l'argine maestro tra Brancere di Stagno Lombardo e Gere de Caprioli, provincia di Cremona, pianura padana. E' una colonna avutiva del lazzaretto e ha bisogno di un intervento urgente da 150 mila euro per essere salvata. Ha un valore culturale importante perché è tutto ciò che rimane di un antico lazzaretto del XVIII secolo che ha resistito strenuamente alle inondazioni del Po e ai segni del tempo che passa. La colonna è alta 15 metri e doveva essere decorata da una fresco raffigurante San Carlo tra gli appestati e la Madonna Consolatrice. Al di là del valore culturale di assoluto rilievo, è un monumento molto importante e caro alla comunità di Stagno, per questo il parroco di Brancere fa un appello. Ci sono ancora due giorni fino al 31 maggio per segnalare attraverso questo indirizzo mail bellezza-governo.it un luogo pubblico da sistemare, una struttura precevole da ristrutturare, un progetto culturale da finanziare. Lo Stato ha messo in campo 150 milioni di euro con questa finalità e allora ascoltiamo l'appello del parroco del Comune di Stagno e Lombardo e di tutti coloro che tengono alla bellezza e alla salvaguardia della storia. Basta una mail oggi, domani, massimo martedì, bellezza-governo.it. Niente più di un click.